Consigliere Calise che si è aggiunto in conclusione. Prego. Ringrazio Presidente. Come Movimento 5 Stelle voteremo a favore di questa mozione. È una campagna che esposiamo da sempre e che stiamo portando avanti dalla Commissione Agricoltura del Parlamento. Abbiamo un sito italiaogmfree.org dove è possibile seguire i lavori della Commissione parlamentare di tutte le iniziative per evitare l'ingresso degli OGM in Italia. Quindi voteremo a favore della mozione e ricordo anche la sentenza del Tar Lazio del 24 aprile che ha confermato il divieto di semina del mais 810 in Monsanto che di fatto rendendo effettivo il meccanismo sanzionatorio in caso di semina di questo mais. Questa è stata una vittoria sicuramente per tutte le persone che sostengono questa battaglia. Ricordo anche che se non mi sbaglio nel caso correggetemi che la stessa Monsanto tramite delle sue partecipate è sponsor di Expo 2015. Quindi è molto interessante vedere questo. Da una parte alcune forze politiche chiedono a livello pubblico di non avere gli OGM ma dall'altra parte non si fa niente per, a partire dall'esposizione universale, escludere dalle sponsorship le aziende alimentari che usano e hanno fatto un grandissimo uso a livello globale degli OGM. Grazie.